Cari amici, sono passati tre giorni dalla mancanza mia di febbre, ancora non ho fatto il tampone, ancora non so se è passata del tutto la malattia, è uscita dal mio sangue. Però molti di voi mi continuano a scrivere sui miei social, scrivono sul sito nicolaporro.it veramente migliaia di mail per l'unica cosa importante, cioè mi chiedono che sintomi avevo e come li ho curati. Quindi questo è una sorta di video tutorial in un momento in cui tutti fanno gran casino. Io vi posso soltanto dire quello che è successo a me, come l'ho curato io, come mi sono trovato in mezzo a questa malattia che poi ho, facciamo le corna, risolto. Ve lo dico perché diffondetelo, è un modo semplicemente per dirvi che quelli che a casa l'affrontano l'hanno affrontata come me. Intanto evidentemente quello che è successo è una febbre che è salita fino a 39, 38 e mezzo, mal di testa e una tosse molto secca, non quelle tosse che diciamo tipiche, una bella tosse secca che ti toglie un po' di respiro. Questi sono i sintomi però che cambiano da persona a persona, quindi queste non possono essere indicazioni generali come non sono indicazioni mediche quelle che do. Io vi sto semplicemente rispondendo alle domande di quelli che mi hanno scritto e ovviamente le mie risposte derivano dal fatto che io parlavo con un signore che è un dottore dello Spalanzani che mi dava questi consigli. Quando la febbre, soprattutto la sera, come spesso avviene saliva, quello che io ho usato è questo, tachipirina 1000. Voglio essere veramente come sono io, cioè un totale ignorante di medicina, ma queste sono pasticche da 1000 e quando arrivava a 39 io ne prendevo una, scendeva, in genere lo facevo la sera, la mattina mi svegliavo, avevo 37, 37 e mezzo, nel corso della giornata saliva anche a 38 e mezzo, ne prendevo un'altra e l'accortezza era di prendere due massimo di queste tachipirine. Così mi hanno detto, magari è falso, io vi dico quello che ho fatto io, quindi nei due giorni in cui ho avuto la febbre a 39, tre giorni ho avuto la febbre a 39, quello che ho usato è questo tachipirini 1000. Per la tosse non ho usato niente, nulla. Il termometro, questo qui, quello che utilizzavo ogni secondo, purtroppo in maniera un po' compulsiva, è sbagliato, nel senso che vi dice 38 e mezzo invece 38, vi dice 39 invece 38 e mezzo, quindi non è che è sbagliato, dovete sapere che non è del tutto affidabile, molto più affidabile il tradizionale termometro che ho usato per tutta quanta i miei cinque giorni di malattia, che è questo che tutti quanti voi conoscete, 5 minuti sotto la scella e passa la paura. Questo è più istantaneo ma meno preciso. L'altra cosa fondamentale è questo oggetto che si compra in farmacia e che si spinge questo bottoncino come vedete qua, si mette il dito indice qua dentro, questo me l'ha spiegato il mio medico e si controlla, come vedete in questo momento non sta ancora uscendo l'ossigeno nel sangue. In questo momento addirittura è 99, era tantissimo che non avevo 99. In realtà questa cosa qui oscilla e nel periodo in cui ero malato arrivava fino a 91, 92, insomma non vi spaventate, però scende molto. Il tema è che questo misura l'ossigeno nel sangue e quindi la capacità dei polmoni di poterlo diffondere, almeno così mi hanno spiegato. Quando questo scende molto sotto il 90, beh dovete preoccuparvi di chiamare il vostro medico o addirittura l'ambulanza perché questo è il segno che il virus è arrivato nei polmoni. Ma fatelo sempre consultando il medico. Quello che io vi sto dicendo non si sostituisce ai medici, è semplicemente un'esperienza personale. Questo per vedere quanto ossigeno sia nel sangue, questo per vedere qual è la temperatura e questa la dacchepirina 1000 per sconfiggere il coronavirus a casa. Spero che io vi abbia risposto a quelle tante domande che mi avete fatto. Nessun'altra medicina, nessun altro antibiotico, nessun altro vitamina C, non vitamina C, omega 3, non sono quelle in questo momento quelle che servono, ma queste robe qui. Almeno così mi hanno spiegato i medici. Ciao, spero di esservi stato utile.